Potente a farla ragazzi! Qua Vax, l'ho giunica, oggi sono la Sole e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video che ragazzi sarà un nuovo video stratattico perché sono tornato come potete vedere con la facecam Yes! Perché ragazzi ovviamente sto in posizione, sto molto meglio sto guarendo proprio alla perfezione e quindi ho detto, noi stiamo bene, noi dobbiamo fare la facecam anche perché è da circa una settimana che non la propongo ai miei carissimi iscritti e quindi dobbiamo proporla. Oggi per che evento diciamo la sto proponendo per un bel pack of non the day per un bel pack opening, un pack opening normalissimo perché? Perché ragazzi se vi ricordate settimana scorsa, all'incirca questo raro io avevo fatto un pack opening e avevo trovato niente un po' di meno che Mac qualcosa, Mac no, Mac come si chiamava? Mac Bacon? No, sto scherzando, un qualcosa con Mac in forma che di cui io pensavo volessi 10.000 crediti, l'ho messo all'asta e l'ho venduto a 170.000 crediti e dato che è uscito il nuovo team of the week ho detto ragazzi, se lo faccio lo stesso della settimana scorsa così magari la fortuna è di pari livello. Quindi questo qua è il nuovo team of the week, sono le 7.03 quindi è proprio appena uscito e perché lo faccio anche subito dato che ci metterò un po' a renderizzarlo ovviamente ve lo faccio subito in modo tale da riuscire a caricarlo il prima possibile o meglio da cercare di caricarlo il prima possibile. Quindi dato che non voglio anche far durare troppo questo video, intanto vi chiedo come state? Io spero che voi stiate bene e vi ringrazio veramente per tutti i mi piace e mi piace nel pink pale di sala siamo arrivati a 2.000, 2.000 quindi mi sembra qualcosa stratattica e se potete lasciate già mi piace adesso per i giocatori che andremo a trovare oh mio dio oh mio dio che giocatori, no bello. Ragazzi la nostra fortuna è direttamente proporzionale al numero di mi piace che ci sono nel video quindi voi ricordatevi di lasciare un bel mi piace e ricordatevi di lasciare un bel mi piace così che la mia fortuna diciamo aumenti in questo modo se io troverò qualcosa ovviamente ci farò il pink pale ecco io ho detto che vi avrei fatto il pink pale o meglio avevo intenzione di farvi il pink pale il giocatore più costoso di tutto il team of the week ma non avevo pensato che la sarda avesse appena fatto una triplenta e quindi questa cosa è abbastanza tattica io cercherò di portarlo comunque il pink pale però non so quando riuscirò relativamente oddio pensavo fosse Royce veramente a portarvelo ecco perché il venerdì ho una verifica domani ho un tema e ho saputo 10 minuti fa di averlo però tranquillo e quindi andiamo a dire alaba ragazzi ho già perso 3 pacchetti ne avrò circa 10 io vorrei trovare veramente un informe e speriamo dagli company yes company e andres di as company va bene dovrebbe valere i suoi 30.000 crediti quindi stiamo andando bene stranerrimo stranamente ecco madonna col naso l'abbiamo detto col naso quanto becchiamo ragazzi col naso dai dai eh dai bello no testo testo sbagliato beh non abbiamo trovato niente in questo pacchetto subito di violenza oh mio dio chiudiamoglio ragazzi bisogna battere due volte le mani qua battetele anche voi un attimo in fretta grandi e ora che l'avete battuta e guardate un po' cosa noi andremo a trovare e guardiamo insieme Luisao ma scandaloso ma stiamo scherziamo non troviamo niente madonna ah ragazzi ci tenete un attimo a dirvi o meglio colgo l'occasione per dirvi una cosa ho scritto sulla pagina facebook che cosa ho intenzione di fare per i 30.000 iscritti e quindi se volete sapere se siete interessati andate sulla pagina facebook vi dite un'altra descrizione e quel video che appunto ho intenzione di fare uscirà credo mercoledì che schifo uscirà credo mercoledì quindi speriamo o mercoledì prossimamente speriamo che tutto segue i nostri piani madonna questo pacchetto ragazzi lo aprirò e poi io mi girò mi girerò e poi andremo a vedere cosa che vorrò quindi giriamoci siamo carichi dai dai ci possiamo girare? wow che andrebbe ma dai voglio un bel iguain informagli lo so può sembrare strano nessuno lo vuole però io lo vorrei lo vorrei tanto non ho perso il conto di quanti pacchetti abbiamo aperto ma ne apriremo ancora un 4 non si sa oh il pacchetto in omaggio ragazzi si sa che nei pacchetti in omaggio si trovano sempre dei giocatori fortissimi fortissimi dai ah madonna che scandalo che scandalo non stiamo trovando nulla oh mio dio dai o un qualcosa di buono ragazzi è giunto il momento di pregare il dio pac il dio pacchetto quindi dio pacchetto fammi trovare qualcosa in questo pacchetto e c'è pure di ma pacchetto pacchetto che fantasia scandaloso oh ma ma stiamo scherziamo no dai se è così ragazzi non apro altri ultimi tre pacchetti dai 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 voglio un bel tot oddio questa coppia ragazzi è troppo magica ci mettiamo il cappuccio dai no 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 guardiamo ma non ci credo non troviamo nulla oh mio dio che schifo via troviamo il cappuccio non porta fortuna i questi li scartiamo ovviamente ultimi due pacchetti ragazzi dai lo abba col gomito col gomito the gomito pack madonna l'abbiamo aperto col gomito madonna l'abbiamo aperto col gomito dai oh dai oh da oh saltiamo oddio che schifo che schifo mi fa ribrezzo eh quando ci sono cioè quel giocatore è la quarta volta che lo trovo quando succedono ste cose ragazzi la voglia di più i pacchetti schizza male da ultimo ti prego un bel giocatore hazard hazard è qua dai madonna mia non ci può no questo non può essere l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto sarà quello che andremo ad aprire adesso anche perchè sto registrando abbastanza questi video ora che li finicherò saranno le 2000 e andiamo a quell'ultimo pacchetto dai o veloce una cosa abbastanza veloce dai velotte traore dio santo ma non valgo niente sti giorni ragazzi non abbiamo trovato nulla torta in miseria e e quindi spero che il video vi sia piaciuto vi inviterò a lasciare un bel in piace magari se arriviamo a 1500 domani cercherò di farvi uscire anche un altro video anche se non credo sia possibile quindi mi piace risposto a 2000 se arriviamo a 2000 mi piace domani farò uscire un altro video e detto questo ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di consigliare ai vostri amici di commentare ai giudici preferiti di fare qualche volente condividetelo anche e detto questo vi saluto vi dico potente a parla insieme al prossimo video bolla